Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno. A Belluno l'impegno delle associazioni per diffondere la cultura della salute, in particolare nella giornata di sabato con iniziative in Piazza dei Martiri. Sappiamo che la prevenzione è l'unica arma più importante che abbiamo a disposizione per combattere questa malattia che comunque è ancora molto importante e colpisce una donna su nove. Le donne che purtroppo anche molto giovani si trovano ad affrontare questa terribile esperienza hanno una forza psicologica incredibile. Come l'ILT provinciale noi esponiamo questi striscioni in alcuni, tanti paesi della provincia, partendo dal Comellico, arrivando fino a Feltre, in modo che questa cultura, come si diceva, della prevenzione venga portata avanti. A proposito di prevenzione, sabato in Piazza dei Martiri ci sarà una clinica mobile per gli screening. All'interno della quale ci sono tecnologie di alto livello e personale straordinariamente qualificato in grado di fornire una risposta diagnostica immediata nel campo del tumore della mammella. Quindi le donne, a seconda della loro fascia di età di appartenenza, verranno sottoposte a ecografia o mammografia o ecografia più mammografia e verranno immediatamente refertate dal medico presente all'interno della clinica. Il tutto naturalmente fornito in forma gratuita. Il Comitato Prevenzione e Salute Donna recupererà l'occasione informativa saltata con l'annullamento della pedonata al vento tra i capelli. Abbiamo in alternativa questo gazebo in piazza dove sarà proprio illustrata la nostra attività e anche e soprattutto per tenere il legame con queste donne.